Allora eccoci ritornati in diretta con tifosi speciale Di Maro Laura tra poco ci renderà, ci sono tantissime mail soprattutto per quanto riguarda il mercato Sì sì Moltissime mail per quanto riguarda il mercato Però avevo promesso agli amici a casa, ricordo che in studio con noi ci sono Ciro Venerato e Così Alberti Nella piazza di Di Maro dove vedo un bel vento perché vedo i capelli di Laria svolazzare Anche quelli di Monica che non si mantengono Anche quelli di Corrado svolazzano, guarda come svolazzano Sì Corrado non succede niente, Corrado dopo ricordo che sarà Meno male che siamo in versione molto easy Sì sì no ma la nostra è una trasmissione Ma che sconoscio di pioggia La nostra è una trasmissione cara Monica che dove ci divertiamo anche oltre a dare informazioni E infatti nel finale l'informazione sarà data da Antonio Corrado nell'intervista esclusiva del giorno Ripeto, o a Formisano o a Cagliecon si sarà l'inviato Antonio Corrado al teatro di Di Maro Quindi come ogni sera ci sarà la nostra intervista Sì sì, Monica mi chiedeva conferma, sì ci sarà Antonio all'interno nel backstage nel retropalco E provvederà a intervistare o uno l'altro No, no, non ti sentivo Io vorrei, Gianluca, io vorrei un attimo ritornare con Pepe Ferrario Sulla diciamo notizia, non definiamo la bomba di questo interessamento Di questo pur parler, Napoli con la Juventus Per Vucinic, sempre Pepe confermi Nello scambio di informazioni tra i due club Dire che è uscito il nome di Vucinic in un colloquio Non significa dire che Vucinic arriverà al Napoli Però, visto che il primo nome che era uscito Ti posso dire che lunedì, subito dopo pranzo C'era stata una telefonata fatta tra De Laurenti e Marotta E il nome che era uscito era quello di Matri È stato riportato anche il nome di Quagliarella Ma mi dicono che il presidente assolutamente non intende parlare di Quagliarella Oggi, in un nuovo contatto, anche perché la Juve insiste su Zuniga E Zuniga vuole la Juve, questo mi è stato riferito Si è parlato anche di Vucinic Non andrei oltre troppo Però è uscito anche questo nome, lo ribadisco Bigò nel frattempo è a Di Maro È tornato? È tornato? Volevo dargli gli aggiornamenti su Iguain Così andiamo poi adesso nello specifico sul calcio mercato Per quelle che possono essere le ultime mosse del Napoli Per cercare di capire qualche cosa in più Perché insomma, questi rebus, questi punti interrogativi Non vorrei che aumentassero in questa rosa del Napoli Teniamo il punto interrogativo del portiere Il punto interrogativo dell'attaccante Adesso anche quello del secondo difensore Insomma, Iguain ci sta provando? Il Napoli ci sta assolutamente provando Per Damiano e per Iguain Sta giocando su due tavole attraverso i due rispettivi emissari Quindi il Napoli non si è rassegnato a perdere Iguain Nonostante il pressing forte dell'Arsenal Al momento questa è la situazione L'Arsenal ha un accordo economico con il calciatore E con la sua famiglia che rappresenta il suo entourage Sulla base di 6 milioni e mezzo Ah, poca roba Più bonus all'anno Rispetto ai 4,4 per essere precisi Che percepisce a Real Madrid bonus esclusi Il Napoli invece è la società che rispetto all'Arsenal Perché al momento si parla molto del Chelsea Ma il Chelsea offerte ufficiali ad Oras, a Real Madrid Non è ancora presentata Il Arsenal invece ha offerto molto meno del Napoli Il Napoli ha fatto un'offerta ufficiale Documentata dal sottoscritto in tempo reale, in diretta La domenica sportiva Attraverso l'agente FIFA Bozzo Di 30 milioni più bonus E questa è una notizia che ti certifico al mille per mille Perché anche il Napoli mi conferma questa cifra L'ultima che so è che il Napoli ha rilanciato Perché il Real Madrid valuta il calciatore Tutti lo sapete 40 milioni Sempre attraverso i suoi intermediari Per una cifra che si avvicina a 35 milioni E che arriverebbe facilmente a 40 attraverso il bonus Come sarebbero distribuiti questi bonus? Credo attraverso, non so, un premio Champions Quindi se Napoli raggiunge la qualificazione Scatta il bonus Se Guain supera 10 gol ne piglia in alto Il problema ora è convincere il calciatore Perché con il calciatore ci sono due scogli da superare Scommetto che il primo riguarda i diritti d'immagine Il primo riguarda i diritti d'immagine Perché lui ha un contratto importantissimo Ed oneroso con la Nike E anche al tempo stesso prestigioso Perché diciamo che Guain tiene molto Da essere un testimonia di questa grande multinazionale Primo problema E mi sembra che su questo lui non voglia derogare L'altro problema, l'ho detto prima, è economico Perché il Napoli nel primo colloquio Che ha avuto con l'entourage di Guain E' arrivato ad offrire più o meno la cifra che percepiva Cavani Siamo lo scorso anno Ovvero una cifra che lambisce bonus compresi i 5 milioni E magari con un ingaggio indicizzato Questa è una novità Cioè aumentando anno dopo anno la cifra Magari partendo da 500 a salire Una cifra che assolutamente non trova il gradimento Dell'entourage Che è fermo alla proposta dell'Arsenal Di 6 milioni e mezzo Però ripeto, nonostante queste difficoltà E come scalare l'Iveris Lo dico subito Il Napoli non si è rassegnato E continua a giocare Lo riconfermo In queste ore Su due tavoli Damiao o Guain Escludo invece Perché è uscita anche questa notizia La escludo Che possono arrivare entrambi Cioè se arriva Damiao Non arriva Guain Se arriva Iguain Non arriva Damiao Sto per dare la linea a Di Maro Però faccio un passaggio tecnico Ovviamente anche su Cosè Alberti Un attimo Massimo Voglio completare il passaggio tecnico Con Cosè Alberti Su Iguain Ovviamente sull'Argentino Iguain Se potrebbe essere un giocatore Secondo te da Benitez Giocatore eccessionale Sicuramente Giocatore che Potrebbe veramente fare Al caso del Napoli Ma in senso assoluto Niente Punti su Iguain tu Punti su Guain Anche se Sono quasi certo Che non verrà Neanche Iguain Eh mamma mia Ma com'è possibile Neanche Iguain Massimo Allora Giallo che volevo inserirmi Innanzitutto per dire Siamo riusciti In un'ora e passa Di trasmissione A non nominare mai Ibraimovic Almeno noi qua Ibraimovic Ce l'abbiamo mai parlato E mi sembra Mi sembra abbastanza un record Anche perché Nella giornata di oggi Non si parlava d'altro Ma infatti Mi colpiva proprio Il realismo Di José Alberti Rispetto a quella che è Quello che è L'impazzimento generale A Napoli Abbiamo ricevuto qui Tutti noi Credo Mail Messaggi Per cercare di capire Se effettivamente la trattativa Ibraimovic C'è fosse qualcosa di più Che un sogno E basta Ma secondo te Secondo me in questo momento È un sogno E basta È un sogno E basta Pepe? Eh ci andiamo Poco lontano Insomma Anche secondo me Una bella suggestione Io invece penso che sia Completiamo perché seguiamo il tuo discorso Perfetto Voglio integrare Ibraimovic con Ciro Così completiamo il discorso Due cose Poi ti devo dire una cosa Di una presenza Gianluca Ma tra l'aspetto volentieri Un attimo La prima Smentire Quello che è uscito Poche ore fa Su alcuni siti Cioè di un vertice parigino Tra Raiola E De Laurentiis De Laurentiis Non so se è Ischia Però vi posso garantire Al 100% Che il mio amico Mino Raiola È Eindhoven Eindhoven Alla partita di addio Di Van Bommel E vi posso pure dire Il ruolo di Raiola Farà l'allenatore in panchina Benissimo Raiola che è stato Pochi giorni fa Forse pochi lo sanno In Abruzzo Esattamente a Silvi Marina Ospite del presidente Sebastiani E qualcosina Forse magari l'ho percepito Che succede Massimo Si stanno alzando tutti Che sta succedendo Chi è la presenza Allora Ti spiego Oggi si sono visti Al campo I genitori di Lorenzo Insigni Anche la moglie Jenny Col bimbo E da qualche minuto È arrivato a Di Maro Anche un amico Di Canale 34 Uno degli agenti Di Lorenzo Che è Antonio Taiano Adesso sia Antonio Corrado Che Monica Scozzafava Stanno cercando così Di coinvolgerlo Per questa Per la nostra trasmissione Tra pochi minuti Ti saprò dare Degli aggiornamenti Ecco Mi spunto Anche una segna Torno da Ciro Io credo che Al momento Sia una suggestione E non una trattativa Seguo da anni Il calcio mercato E un mio vecchio direttore Mi insegnò una frase Da dire Quando si parla di mercato Mai Dire mai Ibraimovic Potrebbe essere L'uomo giusto Per sbloccare Una campagna acquistica Al momento E suggestiva Ma solo tale Il nome Che in un amen Farebbe dimenticare Cavani Cosa che è riuscito A Gomez Con Iovetic E quindi È vero che Ibraimovic Vuole andare via Da Parigi È vero che Raiolo L'ha offerto a Mezzomondo L'ha offerto al City L'ha offerto al Madrid Però poi devo ricordare Che il signor Ibraimovic Percepisce 12 milioni di stipendio Che lo puoi spalmare Quando vuoi Ma sotto una soglia Non va E non mi risulta Che né Raiola Né Ibraimovic Ci abbiano mai lasciato qualcosa Anzi Tutti i contratti Che ha fatto Raiola Con Ibra Sono sempre stati migliorativi E migliorativi E devo dirti Che credo che Anche Benitez E lo stesso Napoli In questo momento Siano concentrati Su Damiao E su Iguain Anche perché Fa un po' paura L'impatto Che Ibra Potrebbe avere Sullo spogliatoio Come no Poi abbiamo due email Mentre sistemiamo l'ospite Sarebbe una bomba atomica Come è stato all'epoca L'acquisto di Maradona Nessuno ci credeva Nessuno E poi invece Pensava Io mi ricordo Perché avevo partecipato A queste Storicamente A queste storie Che si erano fatte Con il Barcellona E via dicendo Sarebbe la bomba atomica Sarebbe veramente La rivoluzione De Napoli Mi auguro Che avvenga Ma io penso Che i 13 milioni Che prende Ibrahim Mosial Più il 100% Di tasse Vai a 26 milioni Un giocatore Che ha La sua età E che Difficilmente Una squadra Che cambia 6-7 giocatori In un anno Possa vincere In un campionato Ma poi nel calcio C'è anche un minimo Di ragionamento Di coerenza Salutiamo Si chiuda Su questa cosa Per far capire Allora In questi anni De Laurentiis Ha sempre bandito I calciatori Anziani E in prestito In prestito O con stipendi Come sta Lorenzo Sappiamo bene Ieri abbiamo visto Il formico Credo Sono notizie Siete più voi Che io Sono arrivato Erano intorno Alle 20 Quindi l'ho appena Salutato E tutto qui Ne approfittiamo Avete più voi Sapete più voi Che io Ti chiediamo Prima di coinvolgerti Nelle nostre discussioni Di mercato Chiediamo anche di Roberto Come sta Che fa Roberto Per quanto riguarda Quell'incidente di percorso Vabbè In fase di recupero Oramai è quasi del tutto Recuperato Per quanto riguarda Il suo futuro Oramai Perugia Sembra la sede La sede definitiva E per l'anno prossimo In quanto è stato Fortemente Richiesto Dall'allenatore Quindi Entra appena Titolo Nel progetto Del Perugia Calcio Che ha Un progetto Ambizioso L'allenatore Tiene molto A Roberto Vuole che sia Sia parte integrante Del progetto E lo ritiene Determinante Per la scalata Alla promozione Quindi abbiamo Ritenuto Sempre di concerto Col Napoli Di andare Verso Perugia Credo che in settimana Si defini L'ufficialità Massimo Ho due mail Per i tuoi ospiti A Di Maro Perché ne abbiamo Lette poco Io però ho un tweet Io però ho un tweet Gialluca Anzi Pepe Ferrario Ci ha riferito In tempo reale Di un tweet Non è del presidente Laurentisi Il tema Non è il mercato Ed è di Rafa Benitez Vero Pepe? Si è un tweet Che Rafa Ha dedicato A Tito Villanova Che sappiamo oggi Si è dimesso Per problemi di salute Dalla guida Del Barcellona E Rafa Appena tweetato Animo Forza E suerte Tito Un bel pensiero Per l'ex allenatore Grazie Pepe Grazie Pepe Laura Dunque Rosario da Madrid Jenny E anche Gianni Ce ne sono tanti Da Madrid Sì da Madrid Sono preoccupati Per il centrocampo Perché dall'ultima conferenza Di De Laurenti Si sembra che il Napoli Non voglia prendere centrocampisti Quindi si rivolgono A Pepe Ferrario Secondo lei Prenderà qualcuno A centrocampo? Pepe Pepe Che hanno preso Un difensore Che è capace Anche di giocare A centrocampo E quindi Con Albiola Hanno mollato La pista Con Alon Proprio per questa Duttilità Dello spagnolo Parola di De Laurenti Se al momento Dovrei attenermi a questo Però le vie del mercato Sono sicuramente infinite E non credo Che sia terminato Del tutto qua Il mercato centrocampo Del Napoli Portiere All'attaccante All'attaccante Di scorta E al difensore Centrocampo Però non escludo Che da qui al 2 settembre Possa arrivare Un centrocampista Come già dissi L'altra volta Non è una priorità Però in questo E anche perché A Benitez Piace anche L'idea Amsic Così il posto Per Caglieconce È sicuro Laura Se non altra Per Monica Scozzafava Ma perché non si parla Di Osvaldo Che dalla Roma Andrà via Ah mi piace Osvaldo Osvaldo Perché non ci prendiamo Osvaldo Ah non è vero Che non si parla Di Osvaldo Osvaldo È un po' come D'Amiao Il Napoli Lo tratta già Da un anno Piaceva anche Piaceva anche A Mazzarri E credo Piaccia Anche a A Benitez L'unica perplessità Rispetto a A Osvaldo Che insomma Questo è il mio Personalissimo parere È veramente Un calciatore Che farebbe Al caso Napoli Farebbe Al gioco Di Benitez Per le sue Potenzialità Per le sue capacità Tecniche Credo sia un po' Magari la testa calda Che ha questo giocatore Che probabilmente Spaventa Il club di Aurelio De Laurentiis Però non è una pista Che il Napoli Che il Napoli Non ha assundato Anche nelle ultime settimane Sai Il Napoli Insomma In questo momento Si guarda intorno Guarda su più Su più fronti Quindi C'è da aspettarsi Di tutto Compreso anche Eventualmente Che svaldo Lo sentiamo anche Il parere Di Antonio Sono aperti Sono aperti gli ombrelli Nel frattempo In piazza La donna E la pace Credo che i nomi Che circolano Sono tutti di primissimo piano Voglio dire Di Amà Damiao Iguain Lo stesso Osvaldo Sono tutti calciatori Di primissimo livello Credo che Qualunque di questi Arrivasse a Napoli Il Napoli Riuscirebbe Secondo me A sopperire Alla partenza di Cavani Considerando che Il gioco di Di Benitez Dovrebbe Essere Meno Votato Ad accentrarsi Su Su un singolo calciatore Ma Benitez Ha detto che Lorenzo Può giocare pure a destra Tu sei d'accordo Anche al centro Tu puoi giocare Apertutto Se lo dice lui Fidiamoci Guai Guai a contraddire Ci prepariamo per il gran finale Massimo Ci prepariamo per il gran finale Ho da ricordare Un appuntamento Molto piacevole Per tutti i napoletani Laura Si perché c'è un grandissimo appuntamento Il 25 luglio Alle 21 Nell'incantevole cornice Della mostra Ad oltremare di Napoli Con uno degli intramontabili Della canzone italiana Peppino Di Capri Che festeggerà Il suo compleanno Con un concerto Indimenticabile Dal titolo Buon compleanno Peppino Quindi tantissimi auguri A Peppino E noi saremo lì Non ci potranno essere Né Monica Scozzafava Né Antonio Corrado Né Peppi Ferrara Vi perdete il concerto Di Peppino Di Capri Perché il 25 È la penultima giornata Forse l'aria scende prima Non lo so Va bene Ci fermiamo soltanto Per l'ultima volta Poi il gran finale Eh Anna Vado Gran finale Poi abbiamo lo stacco pubblicitario Poi il finale Vediamo la grafica Delle altre formazioni Come si stanno rinforzando Le altre squadre E poi aspettiamo ovviamente L'irruzione Al teatro Di Antonio Corrado Con Cayetcon O con Formisano Sulla campagna di abbonamenti Sulle maglie Insomma qualche cosa Sapremo stasera Sicuramente A tra pochissimo Con tifosi